Il 4 di maggio non è il liberi tutti, non è la festa della liberazione, noi siamo ancora tutti a casa, stiamo ancora tutti attenti, siamo ancora con il fucile in mano pronti a sparare al virus ogni volta che si muove o tenta di aggredirci e quindi quei piccoli spazi di libertà che il 4 stiamo riacquisendo, per favore gestiamoli con responsabilità e applicando le regole alla lettera.